12 dicembre 2018, oggi 49 anni fa, veniva buttata una bomba alla Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana. Tra gli altri veniva portato dentro in questura Giuseppe Pinelli che tre giorni dopo cadeva giù dalla finestra del quarto piano della questura di Milano. Oggi ricordiamo Pinelli e tutti i compagni che sono morti e tutte le persone che sono morti per colpa delle mani dei fascisti e delle loro bombe il 12 dicembre di 49 anni fa. Oggi Milano torna in piazza contro le strage nazifasciste. Grazie a tutti.